ok mi dice che sto trasmettendo dal vivo quindi vi do il benvenuto alla lettura del terzo libro di della storia dei longobardi scritta da paolo diacono innanzitutto prima di cominciare volevo augurarvi delle buone feste spero voi stiate passando delle feste piacevoli in questi giorni io per quanto mi riguarda sono state piacevolissime a parte il raffreddore di cui vi ho parlato che mi ha impedito di registrare l'episodio che volevo far uscire per natale alla fine però era soltanto un raffreddore ed è passato anche se potreste sentire la mia voce vagamente nasale a scorso episodio abbiamo letto che è stato registrato non è andato in live e abbiamo letto fondamentalmente tutto in una volta il libro secondo libro molto interessante dove si entra praticamente nel vivo dell'azione con un racconto delle gesta di quel re che passa per il nome di al boino vale a dire del re che ha portato i longobardi in italia ma direi che abbiamo parlato abbastanza di quello che è stato parliamo di quello che è adesso prima che parlare prima di parlare poi di quello che sarà nel futuro nel senso che non mi resterà poiché augurarvi buon anno ma prima inizio del libro terzo in seguito un certo numero di duchi longobardi con un forte esercito entra nelle gallie la loro venuta era stata prevista per rivelazione dello spirito santo molto tempo prima da un uomo di dio il beato ospizio il quale viveva in una clausura nei pressi di inizia e aveva predetto i cittadini di questa città quali sventure li sovrastassero la sua era una vita santa di grande mortificazione si stringeva sulla carne catene di ferro e sopra indossava il cilicio suo unico cibo era il pane accompagnato da qualche dattero nei giorni di quaresima poi si teneva in vita con quelle radici d'erbe egiziane di cui si cibano gli eremiti e che gli venivano recate dai mercanti per mezzo suo il signore si degnò ad operare grandi segni della sua potenza i quali si trovavano scritti nei libri del venerabile gregorio vescovo di tuo dunque questo santo così predisse la venuta dei longobardi in gallia verranno i longobardi in gallia e devasteranno sette città perché è cresciuta la loro malizia al cospetto del signore tutto il popolo infatti si è dato agli spergiuri è impegnato a rubare intento alle rapine pronto all'omicidio in essi non c'è frutto di giustizia le decime non sono versate non si nutre il povero non si ricopre l'ignudo il pellegrino non è accolto nell'ospitalità perciò una percorsa una percorsa sta per abbattersi su questo popolo e ai suoi monaci ordinò andatevene anche voi da questo luogo e portate via ciò che possedete ecco si avvicina alla gente di cui vi ho predetto e perché essi dicevano non ti lasciamo solo o santissimo padre egli soggiunse non abbiate timore per me accadrà che mi recchino ingiuria ma non mi faranno male al punto da togliermi la vita mentre i monaci si stavano allontanando giunse l'esercito dei longobardi devastando tutto ciò che trovavano arrivarono al luogo in cui si era rinchiuso il santo egli si mostrò loro attraverso una finestra della torre essi allora le girarono attorno cercando un'entrata per giungere sino a lui non avendola trovata due di essi salirono sul tetto e lo scoperchiarono e vedendolo stretto da catene e vestito di cilicio dicono questo è un malfattore e ha certamente commesso un omicidio perciò viene tenuto in catene chiamato un interprete gli chiedono che delitto ha compiuto per essere sottoposto a tale supplizio ed egli confessa di essere un omicida ereo di ogni specie di crimine allora uno estrasse la spada per tagliargli la testa e subito la mano destra levata in alto nell'atto di colpire gli si irrigidì nella potere trarre a sé lasciò allora la spada che cadde a terra vedendo questo i suoi compagni levarono un gredo fino al cielo supplicando il santo che per pietà spiegasse cosa dovevano fare egli tracciato il segno della salvezza risanò il braccio paralizzato il longobardo risanato convertitosi alla fede di cristo si fece subito chierico e quindi monaco e rimase in quel luogo fino al termine della sua vita al servizio di dio e mentre il beato spizio esponeva i longobardi la parola del signore due duchi che l'avevano ascoltato con venerazione ritornavano in columi in patria altri che avevano disprezzato le sue parole morirono miseramente lì in provenza mentre i longobardi devastavano le gallie amato patrizio della provenza che obbediva a gun trammo re dei franchi mosse l'esercito contro di loro e attaccata battaglia si diede alla fuga e fu ucciso i longobardi fecero tanta strage dei burgundi che non si può conoscere il numero degli uccisi arricchitisi di un inestimabile buttino ritornano in italia mentre questi si allontanavano e unio detto anche mummulo per nomina del re si meritò l'onore del patriziato infatti avendo i longobardi fatto una seconda eruzione in gallia ed essendosi spinti fino a mu oddio musti a scalmi località vicino alla città di embrun embrun mummulo fece muovere l'esercito e vi si diresse assieme ai burgundi circondati con l'esercito i nemici e sbarrati con travi i sentieri dei boschi piombò su di essi e molti ne uccise alcuni ne fece prigionieri e li inviò il suo re gun tramno i longobardi conclusa così la spedizione ritornarono in italia dopo di ciò e rompono in gallia i sassoni che erano venuti in italia assieme ai longobardi e pongono l'accampamento nel territorio regense cioè presso la città di stablone e fanno razzie nelle ville delle città di vicine riportandone bottino prendendo prigionieri magari distruggendo ogni cosa quando mummulo lo venne a sapere i ruppe su di essi con l'esercito ne uccise molti e non cessò di uccidere finché non vi pose fine la notte li aveva infatti colti di sorpresa quando non sospettavano nulla di quello che poi accadde ma fattosi giorno i sassoni riformano l'esercito preparandosi coraggiosamente a riprendere il combattimento però dopo uno scambio di messaggi si accordarono per la pace e offerti i doni a mummulo abbandonati i prigionieri e il bottino ritornano in italia tornati in italia presi con se le mogli e i figli e tutte le loro masserizie decidono di nuovo di passare in gallia probabilmente per essere accolti dal re sigiberto e ritornare col suo aiuto alla terra dei loro padri certo è che questi sassoni erano venuti in italia con le moglie con i figli per abitarli ma a quanto è dato comprendere non vogliono sottostare agli ordini dei longobardi né da questi fu loro concesso di restare nel loro diretto per questo si pensa siano ripartiti per la loro terra essi al momento di rientrare in gallia formano due cunei e uno entrò attraverso nizza l'altro per embo rifacendo la strada che avevano percorso l'anno prima poiché era il tempo del raccolto si nutrivano mietendo e macinando il fulmento e lo davano anche come pasto ai loro animali depredavano il bestiame né si astenevano dagli incendi quando furono al rodano per entrare guadandolo nel regno di sigiberto mumulo si fece davanti loro con una poderosa moltitudine vistolo presi da grande timore consegnarono per loro riscatto molte monete d'oro e attennero così il permesso di passare al rodano mentre si dirigevano verso sigiberto lungo il viaggio ingannarono molti con cui ebbero commercio poiché vendettero verghette di rame colorate non so come in modo da avere l'aspetto di oro saggiato e pesato onde parecchi seduti da questo inganno dando oro e ricevendo rame impoverirono arrivati finalmente dal re sigiberto ebbero il permesso di ritornare nei luoghi da dove un tempo erano partiti giunti alla terra dei loro padri la trovarono occupata dagli svevi e da altri popoli come il suo proprio amore raccontato mossero contro di loro cercando di cacciarle via e distruggerli ma quelli offersero loro la terza parte della regione dicendo possiamo vivere insieme abitare qui di comune accordo senza combatterci non volendo i sassoni a nessun patto accordarsi fu offerto loro la metà e infine i due terzi riservando agli altri per sé solo una terza parte e rifiutarono ancora fu offerto loro insieme alla terra anche tutto il bestiame pur che rinunciassero a far guerra neanche a questa consentono vogliono la guerra e prima ancora di combattere decidono come spartirsi le donne degli svevi ma non toccò loro quel che pensavano infatti attaccata battaglia ne rimasero uccisi 20.000 mentre gli svevi ebbero solo 480 caduti e gli altri ottengono la vittoria i 6.000 assassoni che erano scampati alla battaglia fecero voto di non tagliarsi più né barba né capelli finché non si fossero vendicati dei loro amici svevi aggrediti in una nuova battaglia furono duramente pestati e così calmarono i loro spiriti bellicosi dopo di ciò tre duchi longobardi amone zaban e rodano erupero in gallia amone prese la via di embron si spinse fino al villaggio di macaro che mummulo aveva ricevuto quale ricompensa dal re e li piantò le tende zaban attraverso la città di die giunse sino a valenza rodano invece aggredì la città di granobla amone si impadronì anche della provincia di arla con le città che sono poste all'interno e spingendosi fino a campo lapideo che è vicino alla città di marsiglia saccheggiò tutto ciò che pote trovare mentre si preparava ad assediare ai 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 x ai accettò in pagamento 22 libri di argento e si allontanò anche rodano e zaban nello stesso modo con rapine incendi portavano distruzione dovunque passavano appena tali cose furono riferite al patrizio mummulo questi muovendo con forza ingenti da prima attaccò rodano che assediava grenoble uccise molti del suo esercito e costrinse lui stesso ferito da un colpo di lancia a fuggire sulle cime dei monti rodano con 500 uomini che gli erano rimasti gettandosi per sentire i fuori mano tra i boschi giunse da zaban che allora assediava valenza e gli raccontò quanto era avvenuto proseguirono assieme sino a embrun saccheggiando ogni cosa lì accorse contro di loro mummulo alla testa di uno sterminato esercito e attaccata a battaglia li vinse allora zaban e rodano cercando di tornare in italia arrivarono a susa teneva questa città sisigno allora magister militum per conto dell'imperatore a lui giunse un servito un servo di mummulo che gli consegnò una lettera inviatagli da questo e gli annunciò che al più presto sarebbe arrivato scoperto ciò zaban e rodano si ritiravano subito verso le loro sedi amone sentite queste cose raccoglie tutto il bottino e parte per ritornare in italia ma messo in difficoltà delle nevi abbandonate a gran parte della preda astento riuscì ad aprirsi con i suoi un passaggio sulle alpi e così giunse in patria in questi giorni all'arrivo dei franchi la cittadella di nanno che è posta sopra trento ai confini dell'italia si consegnò loro per questa ragione il conte longobardo di lagare di nome ragilone marciò su un anno e la saccheggiò mentre ritornava con la preda a campo rotaliano fu affrontato e ucciso con molti dei suoi dal duca franco cramnichi non molto tempo dopo lo stesso cramnichi arrivato a trento la devastò lo inseguì allora evin duca di trento e in una località chiamata salorno lo uccise insieme ai suoi compagni gli fece così cadere dalle mani tutto il bottino che aveva predato e cacciato i franchi recuperò il territorio di trento in questo tempo re dei franchi sigi berto fu ucciso con l'inganno da suo fratello il perico con cui era entrato in guerra il suo regno fu assunto dal figlio childe berto ancora fanciullo sotto tutela della madre brune childe evin il duca di trento di cui abbiamo parlato prese in moglie la figlia di garibaldo re dei bavari attorno a questo periodo costantinopoli come abbiamo già detto regnava giustino secondo un uomo dominato da ogni specie di avidità spreggiatore dei poveri spogliatore dei senatori tanta fu la rabbia per la sua copidicia che fece costruire dei fortieri di ferro nei quali ammucchiava i talenti d'oro che rapinava raccontano che sia caduto anche egli nell'erasia pelagiana egli distogliendo l'orecchio dal cuore dei precetti divini per giusto giudizio di dio persa la luce della ragione divenne pazzo si associò al trono con titolo di cesare perché governasse il suo palazzo o singole province tiberio uomo giusto adatto al compito coraggioso sapiente generoso nelle elemosine imparziale nei giudizi insignia per le vittorie e ciò che conta più di tutto verissimo cristiano poiché egli distribuiva ai poveri molta parte dei suoi tesori che giustino aveva accumulato l'imperatrice sofia sovente lo rimproverava di ridurre in povertà lo stato dicendo ciò che io ho raccolto in molti anni tu in poco tempo con la tua prodigalità lo dissipi ed egli confido nel signore poiché non mancherà al nostro fisco il denaro sufficiente perché i poveri ricevano l'elemosina e i prigionieri siano riscattati questo significa infatti possedere un grande tesoro poiché dice il signore accumulate per voi tesori in cielo dove né la ruggine li corrompe né la tignola e dove i ladri non scassinano e non rubano dunque con ciò che ci dona il signore raccogliamo tesori in cielo e il signore si degnerà di accrescerli per noi sulla terra giustino quindi dopo undici anni di regno termina con la vita la pazzia nella quale era accaduto quando poi ai tempi di papa benedetto per le devastazioni che tutto attorno compiva nei longobardi roma fu alla fame per una carestia la soccorse con lo zelo della sua misericordia inviandovi per nave dall'egitto molte migliaia di misure di frumento morto dunque giustino assunse l'impero tiberio costantino cinquantesimo re dei romani tenendo egli ancora sotto giustino quando era cesare il governo del palazzo come sopra abbiamo detto e facendo molte elemosine ogni giorno il signore gli fornì una grande quantità di oro mentre passeggiava per il palazzo vide sul pavimento una lastra di mamo sulla quale era scolpita la croce del signore e disse con la croce del signore noi dobbiamo munire la nostra fronte il nostro petto ed ecco invece che la calpestiamo sotto i piedi e detto ciò fece subito levare la lastra staccata da lì e messa alla dritta ne trovano sotto un'altra che ha lo stesso segno ordina che sia rimosso anche questa asportata ne trovano una terza e quando per suo ordine tolta anch'essa scoprono un grande tesoro di più di mille centenari d'oro l'oro viene quindi prelevato e distribuito ai poveri con abbondanza ancora maggiore del solito anche il patrizio narsete che aveva un grande palazzo in una città italiana giunse nella città di cui abbiamo detto con molti tesori e lì nel suo palazzo di nascosto scavò una grande cisterna nella quale ripose molte migliaia di centenari d'oro e d'argento uccisi poi tutti quelli che lo sapevano affidò il segreto a un solo vecchio da cui prese un giuramento morto narsete questo vecchio andò dall'imperatore tiberio e gli disse se mi verrà qualche vantaggio ti svelerò o cesare una cosa di grande importanza ed egli di pure ciò che vuoi gioverà anche a te se mi racconterai cosa ci tornerà utile ho nascosto il tesoro di narsete disse e non posso più tenerlo celato perché sono giunto al termine della mia vita allora tiberio cesare rallegandosi manda fino a quel luogo i suoi servi il vecchio li guida essi lo segunottoniti giunti alla cisterna della scoperchia dove si calano in essa si trovò tanto oro e argento che solo dopo molti giorni di lavoro di quelli che continuano a portare via si riuscì a vuotarla secondo il suo costume tiberio distribuì quasi tutto con generose elargizioni ai poveri quando stava per ricevere la corona imperiale e secondo la consuetudine il popolo l'attendeva allo spettacolo del circo l'imperatrice sofia ordi contro di lui una congiura per elevare alla dignità imperiale giustiniano nipote di giustino egli dapprima si diresse ai luoghi santi e quindi chiamato a sé il vescovo della città con i consoli e i prefetti entrato a palazzo rivestito della popolo incoronato del diadema posto sul trono imperiale con immense lodi venne confermato nella gloria del regno udendoci ai suoi avversari nulla potendo contro di lui che aveva in dio la sua speranza furono presi da una grande vergogna per la loro confusione trascorsi pochi giorni giustino venne a postarsi ai piedi dell'imperatore per chiedere grazia offrendogli 15 centenari d'oro egli accoltolo con la consueta clemenza ordinò che stesse presso di sé nella reggia ma l'imperatrice sofia in memoria delle promesse che aveva fatto un tempo ad iberio riprese le sue trame mentre egli se ne andava in campagna secondo l'usante imperiale per trascorrervi 30 giorni di svago in occasione della vendemmia ella chiamata di nascosto giustiniano volle innalzare al suo al trono saputo lo tiberio torna rapidamente a costantinopoli e fatta prigionire l'imperatrice la provo di ogni sua ricchezza lasciandole solo necessario per il vito quotidiano allontanati da lei anche i suoi servi li sostituì con altri presi tra i suoi fedeli che obbedissero a lui e ordinò che nessuno dei servi precedenti la potesse avvicinare giustiniano che egli rimpoverò soltanto fu in seguito da lui tanto amato che promise in sposa la propria figlia al figlio di lui e quindi gli chiese la figlia per il proprio figlio ma queste nozze non so perché non si conclusero il suo esercito da lui stesso condotto con grande valore sbaragliò i persiani e tornando vittorioso portò con sé oltre a venti elefanti un cosingente bottino che si giudicava abbastante a soddisfare la cupidigia umana dunque io scusatemi ragazzi il problema della live un problema devo soffiammi il naso spettacolare eccomi qui riprendiamo subito il perico re dei franchi inviando gli suoi ambasciatori ne ricevette molti gioielli e monete d'oro da una libro a ciascuna che aveva da una parte l'effigie dell'imperatore e intorno la scritta di tiberio costantino perpetuo augusto e dall'altra una quadriga il conducente con la scritta gloria dei romani ai suoi tempi il beato gregorio diacono che fu poi papa mentre si trovava nella città imperiale come legato pontificio compose i libri morali e di fronte all'imperatore confutò euticio vescovo di quella città che sosteneva tesi erronee sulla risurrezione sempre in questo periodo faro faro aldo primo duca di spoleta con un esercito di longobardi attaccò classe città opulenta e la lasciò spogliata di ogni ricchezza presso quileia muore il patriarca probino che aveva retto solo per un anno quella chiesa a essa viene preposto il sacerdote elia tiberio costantino dopo aver retto per sette anni l'impero sentendosi vicino il giorno della sua morte consigliatosi con l'imperatrice sofia elevò all'impero il valoroso maurizio originario della cappadocia e ornata sua figlia dei regali ornamenti gliela diede dicendo ti sia concesso il mio potere insieme a questa fanciulla esercitalo per il bene e tieni sempre in mente di compiacerti dell'equità e della giustizia pronunciate queste parole migrò da questa luce alla patria eterna lasciando con la sua morte un grande lutto nel popolo fu infatti di somma bontà pronto all'elemosina giusto nei giudizi prudentissimo nelle decisioni senza disprezzare alcuno ma tutti accogliendo con benvenevolenza poiché amava tutti e da tutti era amato dopo la sua morte maurizio vestita la porpora e cinto al diadema si presentò nel circo accolto con acclamazioni e largiti dove nel popolo primo della stirpe greca fu elevato all'impero ma i longobardi dopo per essere stati per dieci anni sotto il potere dei duchi alla fine con decisione comune elessero loro re autari figlio di clefi il principe cui abbiamo sopra accennato per la dignità ricevuta lo chiamarono flavio titolo che presero felicemente tutti i re dei longobardi che vennero dopo di lui ai suoi tempi per la restaurazione del regno i duchi longobardi di allora stanziarono la metà delle loro sostanze per le necessità regali di modo che ci fosse un fondo dal quale il re stesso e quelli che vivevano con lui al suo servizio nell'adempimento di diversi uffici avessero di che mantenersi le popolazioni aggravate tuttavia furono spartite tra i longobardi ospiti c'era questo di ammirevole nel regno dei longobardi che non esisteva violenza non si tendevano a guati nessuno contro il diritto angariava o spogliava l'altro non c'erano furti o rapine e ciascuno sicuro andava senza timore dove voleva se noi vogliamo parlare un attimo di questo termine angariava reso in latino come angariava mi viene in mente un pezzo di trivia che può essere utile come aggiunta a questo a questa lettura mi vengono in mente le le cosiddette il lavoro obbligatorio nelle corti medievale la cosa classica le 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 corve esatto le corve perché se noi andiamo a vedere alcuni documenti che ci parlano della propria età longobarda che purtroppo non sono pochi e tra i più famosi ci sono le le pergamene di san paolo in varsi che è un posto appena sopra la mia valle appena sopra la valtaro se noi andiamo a leggere queste pergamene ci rendiamo conto che il servizio la prestazione di opera obbligatoria quella che poi durante il periodo franco diventerà nota come corve si chiamava angaria ok quindi questo angariavano la gente non angariava durante il regno dei longobardi e vuol dire che la gente non veniva obbligata a lavorare probabilmente è questo il significato sono lo dico con abbastanza sicurezza e in effetti è anche quello che noi all'incirca sappiamo del di queste delle prestazioni d'opera non erano particolarmente diffuse in epoca longobarda diventano più o meno diffuse in realtà molto poco in confronto appunto al regno dei franchi diventano molto poco diffuse verso la fine del regno longobardo e comunque sono normalmente configurate in modo talmente pesante quindi sono prestazioni d'opera talmente onerose da suggerirci che si tratti in realtà di qualcosa di saltuario di qualcosa di emergenziale di qualcosa di atipico e invece vediamo che con i franchi nei documenti di proprietà nei contratti li chiamo contratti ma sono cose ovviamente un po più cioè sono i contratti livelli vabbè nei documenti di epoca franca vediamo invece che le corvè tra virgolette le prestazioni d'opera sono diventate più meno onerose più frequenti ovviamente più diffuse appunto è interessante questo questo utilizzo di questo nessuno veniva angariato nel regno dei longobardi perché ci parla forse ci parla più di quanto possa sembrare dei rapporti anche lavorativi all'interno del regno longobardo chissà però in realtà quanto si conface alla realtà questo commento di di paolo in questo tempo l'imperatore maurizio mandò a childeberto re dei franchi per mezzo dei suoi ambasciatori 50.000 monete d'oro perché con il suo esercito attaccasse i longobardi e li cacciasse dall'italia childeberto con una sterminata moltitudine di franchi iruppe d'improvviso in italia ma i longobardi fortificati si nella loro città inviando gli messaggeri offrendo gli doni ottennero la pace mentre childeberto tornava in gallia l'imperatore maurizio saputo che egli aveva stretto alleanza con i longobardi cominciò a pretendere la restituzione delle monete d'oro che egli aveva dato per recar loro danno ma quegli confidando nella sua potenza militare non voleva neppure dargli risposta dopo questi fatti il re autari cominciò l'assedio di brescello e il brescello rido perché è un comune abbastanza noto oltre ad essere il paese in cui sono ambientati i film di don camillo peppone è anche un comune abbastanza noto alle cronache recenti per essere spaventosamente infiltrato dall'andrangheta io ho un'amica che abita in zona ho frequentato dopo questi fatti i re autari cominciò l'assedio di brescello città posta sulle rive del po in essa si era rifugiato il duca droctulfo che è staccatosi dai longobardi e passato dalla parte dell'imperatore unitosi ai soldati bizantini resisteva valorosamente all'esercito longobardo costui di origine sveva cioè alla manna era cresciuto fra i longobardi e poiché ne aveva le qualità aveva ottenuto l'onore del ducato ma quando gli si offerse l'occasione di vendicarsi del tempo in cui era stato prigioniero subito insorse contro le armi dei longobardi contro di lui i longobardi combatterono aspre battaglie ma alla fine battutolo assieme ai soldati bizantini cui recava aiuto lo costrinsero a ritirarsi a ravenna brescella brescello fu preso e le sue mura rase dal suolo dopodiché il re autari fece pace per tre anni col patrizio smargado che allora governava ravenna guidati da questo droctulfo di cui abbiamo parlato i soldati di ravenna si scontrarono spesso con i longobardi con il suo aiuto costruita una flotta cacciarono i longobardi che occupavano la città di classe a lui quando fu giunto al termine della sua vita eresse un onorevole sepolcro davanti alla soglia del beato vitale martire e con questo epitaffio ne celebrarono le lodi è chiuso in questo sepolcro ma solo col corpo drocton poiché per i suoi meriti è vivo in tutto il mondo stava coi bardi ma fu distirpe sveva e perciò era soave a entrambi i popoli d'aspetto terribile a vedersi ma benigno d'animo di lunga barba sull'intrepido cuore poiché amava i pubblici segni di roma fu sterminatore della sua stessa gente trascurò i suoi cari genitori mentre amò noi ritenendo che questa fosse ora venna la sua patria la sua prima gloria fu la presa di brescello lì risiedendo fu terrore di tutti i nemici lì potente pote dare aiuto alle insegne romane e cristo gli concesse di avere il primo vessillo mentre ancora faroaldo occupava classe con la frode per liberarla prepara le armi per le flotte con poche navi combattendo nel fiume badarino lui vinse innumerevoli schiere di bardi di nuovo vinse la varo nelle terre orientali conquistando per i suoi sovrani massimi vantaggi fidando nell'aiuto del martire vitale a questi trionfi spesso giunse acclamato vincitore nel tempo di lui chiese che giacessero le sue ossa ed è gradito a questi luoghi laverle dopo la sua morte e gli stesso morendo lo chiese il sacerdote giovanni per il cui pietoso amore ritornò in queste terre dopo proprio a benedetto fu ordinato pontefice della chiesa romana pelagio senza approvazione del principe poiché i longobardi assediavano roma e nessuno poteva uscire dalla città questo papa mandò elia vescovo di aquileia che non aveva voluto accettare i tre capitoli del sinodo di calcedonia un utile epistola che aveva composto alberto gregorio quando era ancora diacono frattanto childeberto re dei franchi portò guerra agli spagnoli e li batte sul campo la causa della guerra fu questa childeberto aveva dato sua sorella ingunde in sposa a ermini gildo figlio di devigildo re degli spagnoli ermini gildo per la predicazione di leandro vescovo di siviglia e per esortazione della moglie si era convertito all'eresia ariana in cui languiva suo padre alla fede cattolica l'empio padre proprio nel sacro giorno di pasqua l'aveva ucciso colpendolo con un colpo di scure ingunde sapu dopo la morte del marito e martire fuggendo dalla spagna mentre cercava di ritornare in gallia cadde in mano a dei soldati che stavano sul confine di fronte ai goti di spagna catturata insieme al figlio letto e condotta in sicilia concluse laggiù l'estremo giorno suo figlio invece fu mandato a costantinopoli dall'imperatore maurizio mi sono soffiato il naso scusatemi di nuovo maurizio augusto mandando un basciatore a childeberto lo persuase a spingere il suo esercito in italia contro i longobardi childeberto credendo che sua sorella fosse ancora viva e si trovasse a costantinopoli per poterla riavere acconsentì alle proposte di maurizio e di nuovo guidò in italia contro i longobardi l'esercito dei franchi mentre le schiere dei longobardi si affrettavano verso di loro i franchi e gli alamanni per discorde intervenute tra di loro senza aver ottenuto nessun vantaggio ritornarono in patria a quel tempo ci fu un diluvio nei territori della venezia della liguria e di altre regioni d'italia quale non si crede ci sia più stato dal tempo di noè terreni e fattorie diventarono laghi e ci fu grande strage sia di uomini che di animali furono distrutte strade cancellati i sentieri e tanto crebbe allora l'adige che attorno alla basilica del beato zeno martire e posta fuori le mura di verona l'acqua toccava quasi le finestre superiori eppure scrisse il beato gregorio divenuto papa nella basilica ne entrò pochissima anche le mura di verona in alcuni punti crollarono a causa dell'inondazione queste questa avvenne il 17 ottobre ma ci furono tanti lampi e tuoni quanti raramente se ne hanno destate sempre a verona due mesi dopo gran parte della città andò distrutta da un incendio per quello stesso diluvio a roma il tevere crebbe tanto che le sue acque superarono le mura e inondarono vaste zone della città allora nell'alveo del fiume insieme a un gran numero di serpenti un drago di sorprendente grandezza attraversò la città e scese al mare seguì a questa inondazione una gravissima pestilenza che chiamano inguinaria questa miete un tale numero di vittime fra il popolo che di un'inestimabile moltitudine rimasero ben pochi superstiti e per primo colpì il papa il venerabile pelagio che morì subito quindi spento il pastore si diffuse fra le popolazioni in così grande tribolazione fu eletto papa con un anime consenso il beatissimo gregorio che allora era le vita avendo egli disposto che si recitasse una litania a sette voci nello spazio di un'ora mentre tutti supplicavano dio 80 di essi accasciatesi di improvviso a terra esalarono lo spirito la litania a sette voci è detta così perché tutto il popolo della città fu dal beato gregorio diviso in sette gruppi per pregare il signore nel primo coro c'era tutto il clero nel secondo tutti gli abati con i loro monaci nel terzo le badesse con le loro congregazioni nel quarto tutti i fanciulli nel quinto tutti i laici nel sesto tutte le dove nel settimo tutte le donne meritate del beato gregorio tralasciamo di dire di più perché con l'aiuto di dio abbiamo già narrato la sua vita qualche anno fa in essa abbiamo raccontato tutto ciò che c'era da dire secondo le nostre deboli forze in questo tempo lo stesso beato gregorio mandò in britannia agostino mellito e giovanni con molti altri monaci che vivevano nel timore di dio e con la loro predicazione con e con la loro predicazione convertirono gli angli a cristo in questi giorni morì il patriarca di aquileia elia dopo 15 anni di sacerdozio e gli successe il governo di quella chiesa severo il patrizio smaragdo giunto da ravenna a grado lo strappò di sua mano dalla basilica e lo condussa ravenna insieme a altri tre vescovi dell'istria e cioè giovanni di parenzo severo e vindemmio nonché antonio ormai vecchio difensore della chiesa minacciandoli d'esilio e usando violenza li costrinse ad accordarsi col vescovo di ravenna giovanni che aveva condannato i tre capitoli e che al tempo di pelaggio e di papa vigilio si era staccata dalla chiesa di roma trascorso un anno ritornarono da ravenna a grado ma né il popolo volle avere più rapporti con essi né gli altri vescovi li ricevettero il patrizio smaragdo punito giustamente dal demonio ricevuto come successore il patrizio romano ritornò a costantinopoli dopo di ciò fu indetto a marano un sinodo di dieci vescovi che riaccolse il patriarca di aquileia severo il quale fece una ritratazione scritta del suo errore poiché ravenna si era accordato con chi aveva condannato i tre capitoli i nomi dei vescovi che si estenero da questo scisma sono pietro d'altino clarissimo ingenuino da saben agnello da trento juniore da venò verona oronzio da vicenza rustico da treviso fonteio da feltre agnello da asolo lorenzo da belluno massenzio da zullio adriano da pola col patriarca invece si accordarono questi vescovi severo giovanni di parenzo patrizio vindemio e giovanni in questo periodo il re autare mandò un esercito in istria la testa dei quali c'era evin duca di trento dopo aver depredato incendiato fatta la pace per un anno portarono al re molto denaro altri longobardi sull'isola comacina assediavano francione generale bizantino che un tempo era stato con narsete e ormai da vent'anni si teneva saldo da solo francione dopo sei mesi di assedio consegnò all'isola ai longobardi e secondo il desiderio che aveva espresso lasciato libero dal re con sua moglie e le sue masserizie riparò a ravenna furono trovate in quell'isola molte ricchezze poste in custodia dalle singole città il re flavio autari poi mandò ambasciatore childeberto chiedendo di unirsi in matrimonio con la sorella di lui childeberto accettati i doni degli ambasciatori longobardi promise che avrebbe dato in moglie al loro re sua sorella giunsero poi degli ambasciatori dei goti di spagna e il re venuto a sapere che quel popolo si era convertito alla fede cattolica promise anche loro la medesima sorella un po un problema cioè due moglie la moglie gota e il vino è longobardo frattando inviò un'ambasceria all'imperatore maurizio mandandogli a dire che adesso dava inizio quella guerra contro la stirpe longobarda che prima non aveva fatto e secondo il piano dell'imperatore l'avrebbe cacciata dall'italia senza indugiare condusse in italia il suo esercito per una vittoria definitiva sui longobardi animosamente i re autari e le schiere longobardi gli muovono incontro e si battono con valore per mantenere la propria libertà in quella battaglia i longobardi conquistano la vittoria i franchi sono massacrati alcuni fatti prigionieri i più scampati con la fuga con difficoltà rientrano nella loro terra così grande fu la strage compiuta sull'esercito franco che fino a oggi nessun altro luogo se ne ricorda una pari stupisce che secondo il quale fra le imprese dei longobardi ha narrato quelle di rilievo non faccia cenno una loro così importante vittoria mentre ciò che sopra abbiamo scritto sulla strage dei franchi si legge quasi con le stesse parole nella storia di questa probabilmente secondo non ci credevano dopo questi avvenimenti il re flavio autari inviò ambasciatori dei bavari per chiedere in sposa la figlia del loro re garibaldo egli li accolse benignamente e promise che avrebbe dato ad autari sua figlia teodolinda quando al loro ritorno gli ambasciatori ebbero riferito ciò che ad autari questi desideroso di vedere con i suoi occhi la fanciulla promesse e gli lo colse benignamente e promise che avrebbe dato ad autari sua figlia teodolinda quando al loro ritorno gli ambasciatori ebbero riferito ciò ad autari questi desideroso di vedere con i suoi occhi la fanciulla promesse presi con sé pochi longobardi ma svelti e decisi e come capo un solo anziano a lui fedelissimo partì senza indugio per la baviera ammessi alla presenza del re garibaldo secondo l'usanza degli ambasciatori dopo che l'anziano venuto con autari scambiati i saluti ebbe pronunciato qualche parola di circostanza autari che non era conosciuto da nessuno di quel popolo facendosi ancora più vicino rega ribaldo disse autari mio signore re mi ha inviato qui perché proprio perché io veda vostra figlia sua sposa e che sarà la nostra regina in modo da essere in grado di riferire al mio signore quale sia il suo aspetto udendo ciò il re fece venire la figlia e autari osservata la osservata la consegreto compiacimento di delicata bellezza quale lei era e assai piacendogli in tutto disse al re poiché vediamo che l'aspetto di vostra figlia è tale che a ben ragione possiamo desiderarla come nostra regina se piace alla vostra potestà avremo gran desiderio di ricevere dalla sua mano una tazza di vino come in avvenire dovrà fare per noi il re consentì che ciò fosse fatto ella presa una tazza la offerse prima a quella che a quello che appareva più anziano poi la porse ad autari senza sapere che era il suo sposo ed egli dopo aver bevuto nel renderle la tazza le toccò col dito la mano senza che nessuno se ne accorgesse e poi passò la mano dalla fronte sul naso e sul volto cringe soffusa di rossore ella raccontò questo la sua nutrice immagina poverete sarà un po sconvolta da questa cosa e la nutrice se costui non fosse il re il tuo sposo le disse non avrebbe osato toccarti ma stiamo zitte per il momento che non lo sappia tuo padre di sicuro è persona degna di avere un regno e di unirsi a te in matrimonio e davvero autari era a quel tempo fiorente d'età giovanile di figura ben proporzionata coperta coperto di una chioma lucente bellissimo nell'aspetto subito subito dopo essi ottenuto del re commiato riprendono il cammino per tornare nella loro terra e rapidamente si allontano dal territorio del norico la provincia del tor del norico si ora che abbiamo fatto un po di pettegolezzi si passa al trattato di geografia finale degli ultimi quattro paragrafi si la provincia del norico che il popolo dei bavari abita a oriente alla pannonia scusate la provincia del norico che il popolo dei bavari abita a oriente la pannonia a occidente la svetia a mezzogiorno l'italia dalla parte di aquilone le correnti dell'annumio dunque quando autari giunse ormai presso i confini d'italia e aveva ancora con sei bavari che lo scortavano si rizzò quanto potesse il cavallo sul quale andava davanti a tutti e con tutta la sua forza piantò la piccola scura che teneva in mano su un albero che era vicino e ve la lasciò infissa unendo al gesto queste parole tale colpo suol fare autari da queste parole i bavari che lo accompagnavano compresero che egli era il re autari e beh sì anch'io capirei questa cosa tempo dopo essendo il re garibaldo preoccupato per l'arrivo dei franchi teodolinda sua figlia si gioia in italia con un suo fratello di nome gundo aldo e annunciò la sua venuta al suo sposo autari egli le andò subito incontro con un grande seguito al campo di sardi che si trovava in anato no campo di sardi si trova sopra verona per celebrare le nozze e nel giubilo di tutti la presi in moglie il 15 maggio lì tra gli altri duchi longobardi c'era agilulfo duca della città di torino in quel luogo turbatosi il cielo in un gran fragore di tuoni la violenza ad un fulmine andò a colpire un legno che si trovava nel recinto della reggia tra i suoi agilulfo aveva allora un servo a ruspice il quale per arte diabolica comprendeva che futuro preannunciassero le percosse dei fulmini questi in segreto quando agilulfo si appartò per i suoi bisogni naturali gli disse questa donna che poco fa è andata sposa al nostro re fra non molto tempo sarà tua moglie udendo ciò quegli minacciò di tagliargli il capo se avessi aggiunto un'altra parola sull'argomento e il servo io posso anche essere ucciso ma il destino non si può mutare questa donna infatti è venuta in questa terra proprio perché deve unirsi in matrimonio con te e la cosa in seguito andò proprio così in questo periodo non si sa per quale ragione ansul parente del re autari fu ucciso presso verona sempre in questo tempo grippo ambasciatore di childeberto re dei franchi di ritorno da costantinopoli annunciò al suo re con quali grandi onore fosse stato accolto dall'imperatore maurizio e come l'imperatore aveva promesso di vendicare le offese che aveva ricevuto a cartagine secondo il volere di childeberto subito questi con venti duchi franchi guidò di nuovo l'esercito in italia per debellare la stirpe longobarda fra questi duchi più eminenti erano audo aldo olone e cedino ma essendosi olone avvicinato poco prudentemente al castello di bellinzona colpito da un dardo sotto la mammella cadde e morì gli altri franchi usciti per razziare mentre erano sparsi qua e là venivano abbattuti dai longobardi che concentravano i loro attacchi in un singolo settore intanto audo aldo e sei altri duchi franchi giunti nei pressi di milano posero l'accampamento lontano dalla città in luoghi campestri li raggiunsero gli ambasciatori dell'imperatore per annunciare che stava arrivando un esercito in loro aiuto dicendo fra tre giorni ritorneremo con i soldati questo sarà il segnale per voi quando vedrete ardere le case di quel villaggio che è posto sul monte e il fumo dell'incendio salire fino al cielo saprete che noi stiamo arrivando con l'esercito che vi promettiamo per quanto i duchi franchi aspettassero sei giorni secondo gli accordi non videro arrivare nessuno di coloro che gli ambasciatori dell'imperatore avevano promesso cedino frattanto entrato nella parte sinistra d'italia con 13 duchi prese cinque castelli dei quali pretese anche il giuramento l'esercito dei franchi si spinse fino a verona e molti castelli che si erano consegnati loro dopo essersi scambiati i giuramenti di pace senza sospettare alcun inganno furono ugualmente abbattuti i nomi dei castelli che distrussero in territorio tridentino sono tesana maleto sermiana appiano fagitana cimbra cimbra viziano brentonico volene ennemase due in valsugana e uno nel veronese non ce li ha i nomi di questi qui va bene ok dopo che tutti questi castelli furono rasi al suolo dai franchi tutti i loro abitanti furono condotti prigionieri il castello di ferruge per intercessione di ingenuino vescovo di saben e agnello vescovo di trento ottenne di pagare riscatto di una moneta d'oro per ogni uomo sino a 600 monete d'oro frattanto l'esercito dei franchi poiché era estate per il disagio in un clima a cui non erano abituati cominciò a essere afflitto da una grave dissenteria e a causa del morbo perirono molti di loro che più esso vagò tre mesi per l'italia senza profitto alcuno e senza potersi vendicare dei nemici tanto dato che questi si erano roccati nei luoghi meglio difesi e senza aver potuto raggiungere il re contro il quale si rivolgeva la vendetta che si era e che si era fortificato dentro la città di pavia come abbiamo già detto come già abbiamo detto infine mal ridotto per l'inclemenza del clima e aggredito dalla fame decise di far ritorno alle proprie terre ritornando in patria i franchi soffersero tanto la fame che prima di toccare il suolo dove erano nati per procurarsi del cibo vendettero dapprima i vestiti poi perfino le loro armi si fa risalire a questo periodo ciò che si narra di re autari è fama che attraverso spoleto questo re si è giunto a benevento si sia impadronito di quella regione spingendosi fino a reggio ultima città d'italia di fronte alla sicilia e poiché si dice che lì fra le onde del mare fosse posta una colonna egli la raggiunse a cavallo e la toccò con la punta della lancia pronunciando queste parole qui saranno i confini dei longobardi si dice che questa colonna esista ancora oggi e venga chiamata colonna di autari il primo duca longobardo a benevento fu zottone che la tenne sotto suo dominio nel corso di 20 anni siamo agli ultimi due paragrafi che però sono belli corposi ma ormai che siamo in fondo finiamo il re autario sono non ce la faccio più vero sono distrutto il re autari aveva intanto mandato un'ambasceria con un messaggio di pace a gun tramno re dei franchi e zio del re childeberto gli ambasciatori furono da lui accolti con gioia ma indirizzati a childeberto che egli era nipote da parte di un fratello perché la pace col popolo longobardo fosse stabilita col suo consenso era questo gun tramno un re amante della pace e insigne per ogni forma di bontà di lui ci piace inserire brevemente in questa nostra storia un fatto mirabile anche perché sappiamo che nella storia dei franchi non se ne parla essendo andato a caccia una volta nel bosco e mentre i suoi compagni come accade di solito correvano qua e là egli è rimasto solo con un suo fedelissimo oppresso da un grande sonno la gubbiata la gubbiata durante la caccia reclinò la testa sulla ginocchia del suo fedele e si addormentò dalla sua bocca uscì un animaletto a forma di rettile e cominciò a muoversi per passare un rivolo che scorreva lì accanto allora quello sul cui grembo posava il re tratta la spada dalla vagina la pose sopra quel rivolo e su di esse la rettile passò dall'altra parte quindi mi sembra di aver capito perché non c'era questo episodio nella storia dei franchi quindi entrato nel lontano in una cavità del monte e dopo al quanto tempo uscitone ripassò di nuovo no dai il rivoletto sulla stessa spada e di nuovo entrò nella bocca di guntramno da cui era uscito dopo ciò guntramno ridestatosi narrò di aver avuto una meravigliosa visione riferì che in sogno egli gli era parso di attraversare un fiume su un ponte di ferro e di entrare sotto un monte dove aveva scorto si sarebbe andato a finire qui una grande quantità d'oro a sua volta quelli sul cui grembo aveva tenuto il capo mentre dormiva gli raccontò con ordine ciò che aveva visto uscire da lui che più quel luogo fu scavato e si trovarono inestimabili tesori che hanno stati riportati dai tempi antichissimi con quest'oro il re fece fare in seguito un ciborio massiccio di straordinarie grandezze di grande peso e ornatolo con molte preziosissime gemme volevano mandarlo al sepolcro del signore a gerosalemme ma non essendo ciò possibile lo fece porre sul corpo del beato marcello martire che è sepolto nella città di chalons sur saon sede del suo regno e ancora oggi si trova lì e non c'è altrove un'opera lavorata in oro che si possa paragonare a questa ma noi toccate brevemente queste cose degne di essere riferite ritorniamo alla nostra storia mentre i suoi ambasciatori si trovavano in francia il re autari bevuto del veleno come dicono così morì a pavia il 5 settembre dopo aver regnato sei anni subito fu mandata dai longobardi un'ambasceria a childeberto re dei franchi per annunciargli la morte di autari e per chiedergli la pace udendo ciò egli ricevette gli ambasciatori ma quanto alla pace promise che l'avrebbe accordata in seguito dopo qualche giorno promessa la pace licenziò gli ambasciatori poiché la regina teodolinda era assai accetta ai longobardi questi le consentirono di conservare la dignità regale suggerendole di scegliersi come sposo quello che volesse fra i duchi longobardi tale naturalmente che possa ben governare il regno e qui ci ricolleghiamo alla storia di prima di agilulfo del servo ella consigliatasi con i più saggi scelse agilulfo duca di torino come sposo per sé e come re per la gente longobarda era infatti un uomo valoroso forte in guerra tanto di aspetto che di animo adatto al governo del regno subito la regina lo fece venire a sé ed ella stessa andò incontrarlo presso la fortezza di lomello quando arrivò a gilulfo la regina scambiata qualche parola si fece servire del vino e qui ritorna il vino dopo aver bevuto per prima gli porse ciò che restava perché lo bevesse egli presa la coppa baciò rispettosamente la mano della regina ma questa con un sorriso pieno di rosso di rossore gli disse che non doveva baciarle la mano colui che avrebbe dovuto baciarla sulla bocca cosa dolce quindi fatto l'alzare per ricevere il suo bacio gli svelò ciò che riguardava sia le nozze sia la dignità di re che più qui plura si celebravano le nozze in grande letizia a gilulfo che era parente del re autari assunse la dignità regale all'inizio del mese di novembre e poi nel successivo mese di maggio riuniti insieme i longobardi a milano fu da tutti solennemente elevato al regno fine del libro terzo madonna ok molto soddisfatto di questa lettura anche se sono abbastanza stremato per colpa di quel raffreddore che ho avuto in questi giorni la voce completamente distrutta il naso tappato il naso tappato e 27 giugno grazie giulia grazie giulia sei rimasta negli ultimi 20 minuti è stato un piacere averti qui e quindi sì non mi resta che augurarvi sono 58 minuti live su youtube non mi resta che augurarvi un buon anno fatemi vedere il calendario perché non mi ricordo che giorno è il 31 il 31 è un venerdì devo decidere se il 30 giovedì 30 perché tradizionalmente queste live si facevano il giovedì devo decidere se giovedì 30 fa un altro episodio mi piacerebbe molto altrimenti registriamo mi dispiace che stiate arrivando adesso che ho concluso potete recuperare la live su youtube la carico adesso potete recuperare tutto quello che avete perso quindi o facciamo il 30 mi faccio sentire qui su twitter o facciamo il 6 la befana probabilmente quello del 6 sarà un se lo facciamo 6 sarà registrato perché non so se riuscirò a fare la live il 6 il 30 invece sono abbastanza sicuro che sarà live grazie ancora a tutti per essere stati qui buona buona se buona continuazione di serata buon anno e ci sentiamo più avanti ciao a tutti